bella a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video oggi vi mostrerò i miei quattro nerf partiamo da primo il raycon mk2 che è una pistola molto bella della marca modulus e raga non so come si chiama cosa si mette qua per sparare più lontana e poi sarebbe un po giustina e poi si carica così vedete raga ma sparo vedete poi si carica di così però così si leva il caricatore però se sta caricata non si può levare il caricatore ma non si carica più quindi andiamo al prossimo nef che l'ho preso un attimo ho questo nef elite che si chiama destructor raga non so se si dice così però si si chiama destructor e una sua molto comodo che si carica da qua e vedete come spara e questo è il secondo per poi andiamo sul tetto un attimo eccomi qua con il mio prossimo nef questo è un nef strong ma strong man raga questo panno lo so proprio dire che è un nef molto comodissimo questo è il mio preferito raga che per mettere i colpi si schiaccia da questo bottone e poi si chiude e si carica da qua e poi abbiamo l'ultimo nef che è il mio è il mio secondo nef preferito un attimo che è ammitragliatrice si chiama strife e questo nerf è ammitragliatrice perché noi vi faccio vedere prendendo i caricatori da la regola per la regola per la regola e poi per sparare non lo dovete lasciare bene ragazzi spero che questo video vi sia piaciuto lasciatemi piace iscrivetevi al canale e e ciao alla prossima